La battaglia attorno le schede ospedaliere del San Bassiano è scoppiata e pare essere il classico boccone da spolpare politicamente. Il centro-sinistra bassanese è insorto attaccando a testa bassa, con tanto di raccolta firme contro lo tsunami che starebbe per abbattersi sul nosocomio. Peccato che al momento la polemica sia perlomeno prematura, in quanto le schede altro non sono che poco più di una bozza. Poi ci saranno le audizioni, poi la discussione in commissione, poi le proposte definitive e infine l'approvazione. Urlare al lupo al lupo in questo caso fa rumore, ma potrebbe essere un bel boomerang, tanto che la candidata del centro-destra sindaco Elena Pavan non perde l'occasione per azzannare. La vedo come una strumentalizzazione politica piuttosto grave, perché il PD e l'assessore Vernillo stanno, la sinistra in genere, stanno facendo leva sulla paura della gente creando terrorismo assolutamente ingiustificato. E immediatamente la Pavan rigira le accuse, tutta colpa della giunta attuale, che non avrebbe fatto nulla per monitorare. Sicuramente questa amministrazione non ha fatto il proprio dovere di vigilanza e di monitoraggio in questi cinque anni. Sappiamo che il sindaco di Sant'Orso e i sindaci di quella zona si sono fatti sentire, diversamente il sindaco Poletto non si sa dove sia stato in questi anni e adesso cerca di scaricare le responsabilità della propria inerzia sulla regione. In realtà questa raccolta delle firme altro non è che un atto propagandistico che alimenta delle notizie distorte. E alla fine la fondo a tutto il PD regionale. Guardate che sono stati loro a cercare di affossare il San Bassiano, suggerisce suavemente ma con decisione l'aspirante sindaco. Io credo che sia giusto ricordare i bassanesi in questo momento che quando è stata votata in regione la riforma delle ASL, il PD ha votato perché Bassano venisse accorpato a Vicenza, quindi avrebbe determinato lo spolpamento totale del nostro nosocomio. Diversamente la regione ha voluto istituire la ASL 7 della Pedemontana dando dignità e competenza e qualità agli ospedali di Bassano, Sant'Orso e Asiago. Grazie a tutti.